Buongiorno e bentrovati. Visto che mi avete chiesto in tanti come si lega il cavallo dentro il carrello, quali sono un po' i dispositivi di sicurezza, più che dispositivi, diciamo, un po' di conoscenze che ci mettono più in sicurezza quando dobbiamo trasportare il cavallo, allora ho deciso di farvi vedere un pochino di cose. Emily non era richiesta, è entrata da sola, io spero che se ne vada un po'. Ciao Emi, allora partiamo dall'inizio, com'è che si lega il cavallo? Allora, prima di tutto il cavallo va legato dentro il carrello solo dopo che abbiamo messo le barre dietro, che sono le barre che possono essere queste, possono essere fatte in maniera diversa, guardate queste qui che sono sporche e tutto, questo è un carrello che come ho già spiegato in altri video è un carrello di comodo dove faccio entrare i cavalli per abituarli. Queste barre qui possono essere in varia maniera, di ferro, bla bla bla, insomma dipende un po' dal carrello, ce ne sono mille tipi. Ciao Emi, e vanno messe prima di legare il cavallo, sempre, non legate il cavallo senza averlo messo in sicurezza dietro, perché se lo legate e viene guarda e lui comincia a tirare indietro può succedere un macello, a parte il fatto che vi può scardinare tranquillamente i ganci a cui legate le corde e quant'altro, ma poi potrebbe anche ribaltarsi perché tira su, tira forte, poi c'è la pedana dietro che è un po' in discesa, quindi favorisce un po' il cappottamento del cavallo, quindi non lo fate mai, questo è un errore veramente gravissimo, gravissimo, gravissimo. Si lega il cavallo solo dopo che l'abbiamo messo in sicurezza e bloccato dietro con la barra, meglio ancora se tiriamo su anche la sponda, ok? Ovviamente se dobbiamo caricare un secondo cavallo la sponda non la possiamo tirare su, però ecco, insomma, ricordatevi sempre questa cosa qua. Poi, come legare il cavallo? Lo potete legare un po' come vi pare, ci sono dei carrelli come questo che hanno dei supporti già innestati in catena e con il moschettone, potete ovviamente cambiare la lunghezza spostando il moschettone più avanti o più indietro rispetto alla catena, oppure potete legarlo, per esempio, in questo caso qua su c'è un anello, potete legarlo con la corda della capezza a quell'anello, oppure a un anello più basso, poi dipende, dipende se volete per esempio mettere la rete per fargli mangiare qualche cosa durante il viaggio, ci sono dei carrelli che hanno proprio apposta dei ganci là, questo per esempio non ce l'ha, quindi lo leghiamo a questi ganci, lo legavamo quando lo usavamo su strada a questi ganci qui, e quindi potete un po' gestirla come vi pare. Qual è il parametro che vi deve balenare in testa ogni volta? Va d'accordo col cavallo accanto oppure no? Va da sé che se si viaggia da soli, perché c'è un carrello a un posto, non è un problema, basta legarlo da una parte, ci sono dei cavalli che tendono a girare la testa così verso la parete e poi dopo rimangano incastrati, cioè non ce la fanno più a ritirarla di là. In realtà non è vero, spesso e volentieri ce la fanno da soli, però se volete essere tranquilli perché magari avete paura che il cavallo si possa infastidire di questa situazione e quant'altro, lo legate più corto, semplice, non è che dovete fare molto corto. Dice, ma il legato più corto sta scomodo, dovete scegliere voi un compromesso. Ovviamente il legato più corto sta scomodo se vuole girare la testa, perché se sta girato in avanti non sta scomodo. Chiaramente più corto non intendo 10 cm di corda, che abbia sempre la possibilità di muoversi. Quanto? Beh, dipende. Se io dalla parte di qua ci metto un cavallo che non vanno molto d'accordo, è bene che io non gli faccia girare la testa più di tanto a questo, perché se no va da noi all'altro. Se io monto il mio Eros insieme a Taris, che è il cavallo della Simona, che Eros non lo può vedere, Taris, come può? Lo vuole andare là a dargli noi, a picchiarlo, a morderlo, eccetera. Noi ci siamo andati a Roma, no? Quindi in quel caso lì cos'è che fai? Lo leghi in modo che non possa girarsi a morderlo, ma ovviamente anche questo lo leghi in modo che non possa andare di fronte a, nel nostro caso, Eros. Quindi, in modo che non si possino annusare, oppure magari che si annusano ma più di tanto non riescano a fare. Va da sé che se io devo trasportare uno stallone, accanto non ci monterò una femmina in calore. A parte i casi particolari, quando magari quei cavalli sono già abituati a stare insieme, sono bravi, eccetera, eccetera, altrimenti non è molto conveniente, capite da sé. Capite da voi che andate a mettervi un po' nei pasticci. Ricordatevi che un carrello, anche se vi sembra robusto, due cavalli ve lo aprono come se fosse una scatoletta di sardine, eh. Cioè, anche quelli un pochino più robusti. Ora, a parte se si va a prendere quelli che sono abilitati anche per il trasporto delle vacche, che sono particolarmente duri, oppure anche alcuni tipi di carrelli, ora non voglio far nome delle marche, che però sono abbastanza robusti, quindi magari si adoperano per il trasporto di pulibri, eccetera, eccetera. Se no, tutti gli altri, basta uno starnuto, si disintegrano, eh. I cavalli hanno una forza che è già di suo esageratamente esplosiva, ma se si impanicano, eh, non c'è veramente, vedete della roba. Poi magari il cavallo lo buttate via perché si ammazza, però nel frattempo il carrello è come se ci fosse stata un'esplosione dentro. Quindi, mi raccomando, cercate sempre di abbinare cavalli che siano più o meno compatibili, eh. Altra cosa, c'è il problema delle capezze, eh. Molte volte mi viene chiesto che capezza uso. Uso una capezza normale, come questa, per esempio, ok? Oppure uso una capezza in corda similparelli o parelli, eh. Tipo questa, hm? Se il cavallo è bravo non c'è nessun tipo di problema. Diciamo sostanzialmente con la capezza parelli potete tranquillamente usarla. Non ci sono, come si può dire, non ci sono controindicazioni per non usarla. Si carica il cavallo e si lascia dentro a quella maniera lì. La cosa che vi posso dire è che siccome questa non si scioglie, se succede qualche cosa dovete tagliarla, eh. Dovete tagliarla qua sotto. Chiaramente, se la tagliate qua sotto, poi la buttate via. Ecco perché molte volte si sente di non la caricare con la capezza parelli. Perché se succede qualche cosa devi tagliare, ok? Quindi tagliare vuol dire portarsi dietro comunque un coltello. Quando viaggiate con il carrello vi conviene sempre mettervi un coltello in macchina. Non vi preoccupate perché se vi fermano di solito le forze dell'ordine lo sanno che uno che ha i cavalli e che in quella situazione là per tagliare due corde qualcosa dietro si deve portare. Però comunque questo lo lascio a voi decidere. Io personalmente un coltello me lo porto sempre dietro quando viaggio con il cavallo. Sia se ci vado a giro per i boschi sia se ci viaggio con il carrello, eh. E cos'è che dovete fare? Dovete tagliare una asola di queste. Quindi va da sé che io non bloccherò la capezza passando il moschettone su tutte e due le asole. Così, ok? Questo lo faccio quando lavoro con il cavallo. Se lo devo far salire sul carrello uso una sola di queste due asole qui. Così, ok? Perché? Perché a questa maniera posso tagliare più velocemente, ok? Perché basta che ne tagli una per liberare il cavallo. E ovviamente c'ho anche un altro vantaggio. Qual è l'altro vantaggio? È che io la capezza la continuo ad usare anche dopo. Pensate, no? Se siete in una situazione d'emergenza, tagliate qua. Non c'avete un'altra capezza di ricambio. Nessun problema. Sganciate, attaccate da questa... Sganciate. A questo punto questa è tagliata, è venuta via. L'attaccate da quest'altra parte e il problema è risolto. Cioè avete ancora per tutto il trekking, il viaggio, eccetera, eccetera, una capezza utilizzabile. Ok? Questa, vabbè, lo sapete, potete attaccarla qui, potete attaccare anche due corde qua un po' a modi a due venti, in modo che se avete un cavallo che tende a volersi girare, a voler praticamente fare un... insomma, girarsi dentro il carrello, potete mettere praticamente due corde o due catenelle che lo tengano un pochino più dritto, dandogli sempre un po' di movimento perché loro usano la testa per bilanciarsi e di conseguenza durante il viaggio hanno bisogno, no, di usare la testa per trovare le posizioni più giuste per poter stare dietro un po' alla vostra guida. Ultima cosa che vi volevo dire è quella di alcuni di voi che mi hanno chiesto come si fa a trasportare animali piccoli, tipo buoni, che magari mettano la testa sotto. La cosa migliore, a meno che non vogliate modificare, e l'ho visti anche modificati, anche per i cavalli più grandi che magari erano più lunghi, quindi hanno messo praticamente questa... hanno modificato questa barra rendendola un pochino curva qua davanti, in modo che potessero guadagnare una decina di centimetri. Nel caso dei poni o comunque cavalli piccoli, la cosa... se deve essere una cosa ripetuta vi consiglio assolutamente di modificare il carrello in modo tale da poter abbassare questa sbarra. Nel caso invece che sia una cosa sporadica, potete semplicemente imbulonare qui un tappo. Prendete un pezzo di compensato che sia abbastanza robusto, 3 cm, insomma roba ignorante perché tanto cavalli ci vuole sempre roba che resista un po' alle sollecitazioni. I poni, non pensate che abbiano meno forza, sono tremendi anche quelli. Quindi, magari, ecco, insomma, basta un attimo che mettete qualche cosa qua davanti fermato bene, ok? Fermato bene, in modo che non gli venga da mettere la testa sotto. Questa è la cosa più semplice. Vedete questo barile qui? Per cosa pensate che serve a questo barile qua? Noi questo barile lo teniamo qua perché quando facciamo salire il cavallo da solo, perché noi gli insegniamo a salire da solo al cavallo, ok? A prescindere che poi dopo magari lo possiamo anche caricare andandone avanti. però è più difficile farlo salire da solo, ma è fondamentale insegnarglielo perché, per esempio, se avete un carrello ad un posto e ci sono dei carrelli che sono veramente terribili, anche solamente guardarli allontano da tanto che sono stretti, quindi non è che possiamo pensare che ci stiamo in due dentro, no? Se sono dentro col cavallo sono davanti, altrimenti sto dietro, eh? Però in quel caso lì, com'è che faccio a chiudere dietro se sono dentro? O sono in due, e allora lì il carrello non si pone, oppure insegno al cavallo a entrare da fuori. Noi, diciamo, noi istruttori parelli insegniamo ai nostri studenti nei vari livelli, fra l'altro nel livello 3 c'è già la prova del carrello, nel livello 3 online, nell'esame di livello 3 online c'è già la prova del carrello in cui noi dobbiamo stare fuori e il cavallo entrare dentro da solo. Quindi in quel caso lì si fa entrare il cavallo e si mette la sbarra dietro. Poi si entra dalla porticina di ispezione, oppure se è un carrello a due posti, dall'altra parte, insomma, diciamo, in qualche maniera raggiungete la parte frontale e legate, dopo però. Quindi mettete il cavallo dentro, chiudete, ma come faccio a mettere il cavallo dentro stando fuori? Beh, insomma, se seguite il programma parelli lo scoprite. Ok, torniamo a noi. Come mai ho questo barile qua davanti? Perché se io faccio entrare un cavallo, mentre che gli insegno, no? Sto insegnandogli a salire sul carrello, eccetera, eccetera, magari posso mettergli dei mangime. Molti di voi lo fanno quando fanno entrare le prime volte il cavallo sul carrello. Qualche uno addirittura lascia il carrello nel campo con i mangime dentro, cosa che io vi sconsiglio perché vi spaccano il carrello e non gli insegnate a salire, ok? Perché alla fine cosa fanno molti cavalli? Entrano, mangiano, escono, entrano, mangiano, escono, entrano, mangiano, escono. Non è che entrano e stanno dentro. Poi, se lo fanno, ok, lo fanno per loro natura, ma i cavalli sono claustrofobici per natura, quindi molte volte, molte più volte, capita che fanno così. E infine, lo fanno se voi siete dentro, entrano, mangiano, escono, ok? Perché magari non si fidano di voi. Quindi seguite il programma e insegnatelo per bene. Poi il mangime può essere comunque un aiuto. Quando io metto il cavallo dentro da solo, perché sono fuori, non voglio che metta la testa sotto, ok? E allora gli ci metto questo qui, che poi mi può servire anche come appoggio per eventualmente il secchio del mangime. Chiaramente se voi... Ci sono dei carrelli che hanno già in cima la mangiatoia, a questo punto se volete mettere qualcosa da mangiare per il cavallo, lo potete mettere direttamente nella mangiatoia. Quindi, insomma, dovete un po' adattare al carrello che avete. Questi carrelli qua, come ce ne sono molti ancora in giro, sono vuoti davanti, ok? Per cui, in questo caso qui, se io facesse entrare un cavallo da solo, potrebbe mettermi la testa sotto, no? E come faccio? Niente, lo lascio libero questo, ok? In modo che se il cavallo mette la testa sotto e l'alza di scatto, non rimanga imprigionato. È sempre il solito concetto che se rimane imprigionato, tira indietro, rimane con una brutta impressione, e quindi è più facile che poi dopo non ci voglia salire di nuovo sul carrello. Mentre se mettete questa sbarra qui, che si può togliere, non succede nulla. Insomma, alza la testa, la barra casca, magari ci sta anche che si impaurisca un attimo e esca lo stesso, ma non si è sentito in trappola. È diverso. È come se quando arriva qui sente un rumore e magari esce, ok? Non è un problema. Lo rimettete dentro. Mi sembra di aver detto tutto. Mi raccomando, con il carrelli non si scherza. Seguite queste indicazioni. Magari lasciatevi nei commenti quelle che sono state le vostre esperienze, i problemi che avete riscontrato e soprattutto se magari voi fate anche in qualche altra maniera. Magari scrivete come fate e io vi do un'idea del livello di sicurezza che state seguendo per il vostro metodo. E se avete altre domande invece scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo. Al prossimo. Abbiamo una stalker. Alla prossimo.